Ok, va bene, diciamo, chi si ricorderà negli ultimi anni, tra le tante cose, diciamo, per colpa in origine di Roberto Mantovani, mi sto occupando, non dico a tempo perso, ma insomma, anche di questo scienziato sicuramente, diciamo, secondario ai nostri sacri, diciamo, come dal punto di vista storico oggi, che però ai suoi tempi ebbe, diciamo, un diverso seguito come manager, come uomo, diciamo, politico e anche come scienziato. Oggi vi parlerò di un caso, uno studio, potremmo dire, che riguarda la pre-storia, diciamo, della sismologia, perché poi, diciamo, sismologia vera e propria, se non stiamo nella seminata dell'Ottocento, insomma, la storia non inizia proprio, diciamo. E in particolare riguarda, appunto, diciamo, lo studio è nato, l'interesse è nato, si sapeva, diciamo, che Poli aveva pubblicato una memoria sul Tremuo del 1806, in occasione del terremoto nel Molise del 1805, anche perché poi Poli è un personaggio eclettico, non era strano una cosa del genere, ma, diciamo, qui riguarda il fatto che l'anno spunto, poco più di un anno fa, negli archivi della Royal Society a Londra, ho scoperto, ritrovato, ho scoperto dire, un manoscritto inedito del 1783 di Poli, che, diciamo, e poi da lì, diciamo, come si dice, l'appetito viene mangiando, ecco, questa è una parte del manoscritto, che Poli inviò al presidente della Royal Society, Giuseppe Benito, per farlo pubblicare, per farlo leggere, diciamo, davanti alla Royal Society, che fosse che avvenne, e però poi non è stato mai pubblicato, si è dimenticato, c'è anche un caso di Enigma, che poi, casomai, vi accenderò, ma, diciamo, questo disvella un fatto, secondo me, interessante, che non so se tutti sanno, io, per esempio, non lo sapevo prima, e quindi, diciamo, poi ho ricostruito un poco la storia, e anche qui si vede che il contributo all'epoca a queste cose di Poli può sembrare strano, ma, diciamo, non è, non è, eh, secondario, e il titolo è Fuoco elettrico sopperraneo. Allora, incominciamo, appunto, un po' di pre-story sulla sismologia, basta andare a vedere la Green Encyclopedia, che non è quella francese, ma è la ciclopedia di Chambers del 42, questo troviamo scritto a proposito dei terremoti, i naturalisti, eh, sono di, naturement are divided as to what the causes of the earth are. Some describe them to water, others to water, and others to air, and all of them, with some reason. sempre completamente distante, ovviamente siamo alla preistoria. Il tutto da dove nasce? Nasce sostanzialmente da Aristotele, se proprio vuoi andare all'antichità, che era stato il primo a parlare che i terremoti potessero essere dovuti a un vento sotterraneo che scluteva la terra. Poi nel XVI secolo la cosa viene un po' riformulata, questo vento dovrebbe essere a qualche fermentazione, un qualche tipo, più o meno è sempre aristotelica. La cosa, diciamo, del XVI secolo e del XVI secolo si passa dall'aria, se volete, cioè si passa, si aggiunge più che altro, si aggiungono teorie, mettiamola così, più che se ne passa da una all'altra, invece dell'aria e dell'acqua che si vada da una caverna all'altra, si scondra, produce delle cose, diciamo, questo è il terremoto, e poi, diciamo, all'inizio del 1700, diciamo, si intravede anche un'altra possibile causa, che è il fuoco sotterraneo, connessione con i vulcani, anche se non è questo quello a cui pensa, no? E qua nel fuoco sotterraneo, all'epoca, dovete includere anche, diciamo, fuoco causato da reazioni chimiche, mettiamola così, ma non ho il tempo di entrare nei dettagli, vi do solamente qualche suggestivo. Il punto centrale dove incomincia quest'ultima ipotesi del fuoco rispetto all'aria e all'acqua a prendere corpo, diciamo, più delle altre, è un esperimento modello fatto nell'anno di Grazia, 1700 da Nino con la Slemmeri, controverso, perché, diciamo, a volte a lui c'era riuscito, ripetendo non sempre riuscito, e cosa si succede? Succede che se voi mettete un po' di limature di ferro, un po' di polvere di zolfo, che è quello che si trova sotto terra delle diritte, sostanzialmente, magari lo inumidite un pochettino, eccetera, eccetera, succede una reazione, come diceva lui, effervescente, che simula, diciamo, una conflagrazione vulcanica e si scuote qualche cosa, insomma. L'esperimento è controverso perché chi lo tenda di riprodurre a volte riesce, a volte non riesce. Però, diciamo, c'è questa cosa qui, diciamo, che eccita la fantasia degli scienziani dell'epoca. Nel Settecento, però poco dopo questo, torna alla metà, ma anche un poco prima, Settecento, sapete, è l'epoca, è il secolo dell'elettricità, se vogliamo, entriscena l'ipotesi elettrica, che può sembrare una cosa completamente, se nessuno, diciamo, sapeva prima di questo caso, come me, tra parentesi, può sembrare una cosa completamente strana, e invece non lo è per niente. Praticamente quello che succede, che diciamo, le tre cose che abbiamo viste prima, aria, acqua e fudo, gradualmente, ma neanche tanto gradualmente, vengono sostituite dall'elettricità, sostanzialmente, e qui sono termini che si usavano all'epoca, che ho messo insieme per far vedere il rapporto, aria, vapore, elettrico, invece di acqua, fluido, elettrico, e invece di fuoco, fuoco, elettrico, ovviamente sono sinonimi, è chiaro, però non so perdere. Da cosa, diciamo, cosa viene pensato? A parte l'elettricità va di moda, quindi si vuole vedere dappertutto, questa, diciamo, è la cosa generale che sta dietro. Beh, perché, per esempio, perché prima l'aria sotterraneo, l'acqua, vabbè, la stessa cosa producì, vabbè, c'è una differenza di pressione, c'è un vento impetuoso, scuote le cose, succede il terremoto. Beh, più o meno pensano alla stessa cosa. C'è un disequilibrio di elettricità tra una zona e un'altra, per ristabilire l'equilibrio ci sta una scarica elettrica, qualche cosa, insomma, che scuote il terreno. Questa è l'idea in completa analogia, insomma. Perché, diciamo, poi la gente comincia a crederci e diventa anche abbastanza dominante questa cosa? Perché poi, effettivamente, trovate, in tutte le descrizioni dell'epoca, e veramente ne sono tante, sono impressionanti, tutta una serie di fenomenologi, tutta, diciamo, una fenomenologia, cioè, di osservazioni sperimentali, le chiamerei empiriche, diciamo, più che altro, che effettivamente, se tu le leggete senza sapere niente, mettiamola così, di qua, sicuramente è così, insomma, perché sono anche, a volte, sono pure abbastanza stringenti. Perché, per esempio, se si nota, se si annota che magari durante il terremoto si osserva un fulmine, un bagliore di fulgore, ci stanno anche scosse elettriche, addirittura, diciamo, può sembrare una cosa ridicola, ma vengono descritte, diciamo, da, diciamo, scienziati seri, diciamo, non da osservatori della Domini, disturbi sterici, diciamo, dei dolori, diciamo, così che si erano messi in connessione con l'elettricità, che venivano o poco prima o poco dopo, diciamo, il terremoto, e come si spiega? Ah, è chiaro che la causa deve essere di natura elettrica, perché è il terremoto che induce queste cose. I primi supporters, diciamo, in genere trovati nella letteratura che questa ipotesi elettrica del terremoto, sulle cause del terremoto, è dovuta a Franklin, non è vero. I primi supporters sono degli inglesi, io più indietro di questi non ho trovato niente, e anche nella letteratura secondaria più o meno a questi si rifà, che sono William Stuckely, Stephen Hayles e qualcun altro, non sempre inglesi. La suggestione da cui nasce, che però, diciamo, poi si rifaranno soprattutto gli italiani, che sono più umanisti rispetto agli inglesi, è una suggestione che qua non c'entra Aristotele, ma c'entra primi al vecchio, se proprio dobbiamo, perché nella naturale storia che trovate, diciamo, anche lui si era occupato di questo, e lui aveva messo, aveva osservato una connessione tra quello che succede in Ciro e quello che succede in Terra. neque aglio desti in Terra Tremor, quamma in un betonitrum, un terremoto è l'analogo di un tuono di quello che succede. E se nel Settecento mettete insieme il fatto che i fulmini, i cosi scopri di natura elettrica, fate due più due, diciamo. Cosa ci si immagina? Non ci si immagina che ci sta una sorta di attrito tra atmosfere e superficie terrestre che produce uno squilibrio di elettricità tra l'elettricità e l'atmosfera e questo innesca un terremoto. Questa è, diciamo, la logica. Perché qua il terremoto degli italiani? Perché un ruolo fondamentale in questo caso studio del terremoto elettrico, che si va più, va bene, non l'ho chiamato in, insomma, fu svolto dagli italiani per una ragione semplice, per due motivi molto semplici. Allora, l'ingrediente fondamentale ovviamente era, e perciò poi qualcuno lo faceva risalire a Franklin, l'ingrediente fondamentale era la teoria di Franklin che permette, diciamo, che si possano accumulare cariche dall'esterno, il corpo elettrizzato, piuttosto che, diciamo, eccitazioni materie, in essenza, avete questo, non può succedere il disequilibrio che dicevamo prima. Il primo sistematico italiano che affronta la faccenda è Gian Battista Beccaria, che, diciamo, riporta tutte le osservazioni, cose che già vi ho detto, ma soprattutto per lui una cosa fondamentale a favore dell'ipotesi elettrica è il fatto che i terremoti si trovavano anche a grande distanza e se è un'aria e fuoco non è che a 100 km di distanza si riesce a immaginare che qualcuno di queste cause riesca a trasmettere il terremoto a grande distanza, mentre invece l'elettricità sì. Questa è più o meno, diciamo, la logica di padre Beccaria. Il secondo, grande italiano, anche se questo è la Lombra, diciamo, da cui, diciamo, sono le fondi primarie, a cui si attinge, Tiberio Cavallo, che a parte sempre tutta questa serie di fenomenologie, spiegazioni, eccetera, fa anche degli esperimenti modelli, praticamente l'analogo dell'esperimento di Lemery, che, diciamo, fa degli esperimenti in cui, tramite scosse elettriche, eccetera, si simulano, tra virgolette, fratture o cose strane come si producono in terremoti. Ovviamente è chiaro che oggi magari possono far sorridere, ma, insomma, e Cavallo riporta dettagliatamente il suo trattato, e qui, anche tutta una serie di altre fenomenologie, conferma, delle ipotesi, appunto, durante, riporta parecchie osservazioni, diciamo, giurate, se volete, si osservano fulbini durante l'esplosione vulcanica, tenete presente che non è all'epoca strettamente, diciamo, la gente nega che aveva rispondato il nesso tra terremoti e polizioni, però, diciamo, qualcosa aveva a che fa, perché è sempre sotto terra, questa era l'idea. I tuoni e fulbini durante i terremoti, eventi sismici, ecco, qua è una delle cose, e si era notato che gli eventi sismici erano più frequenti d'inverno che non in estate, mettiamola così, e questo si mise subito in connessione col fatto che in inverno c'è un maggiore accumulo di elettricità atmosferica, mettete insieme le due cose e un'altra prova a favore dell'ipotesi elettrica del terremoto. Cavallo, non è il primo e non è manco l'ultimo, allora, visto che Franklin il parafulbine eccetera eccetera, se è vera sta cosa possiamo fare un para-tremoto come si diceva all'epoca e infatti alcuni italiani seguendo la suggestione di Cavallo e di altri realizzarono poi mettete una bella spranga di ferro nel terreno magari evitate il terremoto, insomma, fu, diciamo, provato, provato non nel senso che a prevenire il terremoto fu messo in atto, fu realizzato in più di un para-tremoto. Allora, come vedete, diciamo, qui il collegamento dell'ipotesi elettrica sulla natura dei terremoti è collegato, diciamo, a quello che succede nell'atmosfera. Io qui, di proposito, non lo chiamo elettricità atmosfera, ma elettricismo, per, a parte, non l'ho inventato il termine, ma per sottolineare, diciamo, la natura empirica, che, diciamo, fisica, vera e propria della cosa a Napoli e Londra, perché qui, appunto, entriamo adesso nel personaggio. Giuseppe Savarevo, volevo dire, era ben noto che si era occupato di elettricità, di elettricismo atmosferico, era uno scienziato molto attento a fare esperimenti, osservazioni, eccetera, non vi faccio tutta la lista di quello che aveva contribuito in questo settore, però diciamo alcune cose, per esempio, questo buscolo del 73 dimostra, tra virgolette, che praticamente tutte le sostanze riescono a diffondere l'elettricità e questa si può distribuire non solo sulla superficie, ma anche all'interno. E lui, che in occasione di un'aurora coreale, che osservo lui stesso, a Napoli capisce che questo è causato diciamo dal fuoco elettrico e fa degli esperimenti per cui con le macchine elettriche a disposizione ha un gabinetto reale che sta a Napoli, di Firenze più che reale, scopre che diciamo le macchine elettriche possono produrre aurure boreali, diciamo, che quelle naturali hanno influenze anche sulla bussola nell'unica scoprima per fare esperimenti in nota. Questo l'elettricità può essere durante l'aurora mettete diciamo un paraful ma diciamo questo accumula con le punte metalliche elettricità e poi durante le aurure boreali si sentono dei crepitì esattamente come succede una scarica di una scendilla elettrica e quindi anche qua fate due più due. Quando si trova all'ultra due anni dopo anche lì osserva un'aurora boreale e lì diciamo anche lì fa un grosso esperimento fatto che diventerà home member della Royal Society proprio per questi studi sull'elettricità atmosferica usa una gassetta di 54 bottiglie di led per produrre diciamo fratture elettriche che simulano va beh diciamo qua non sta pensando ancora ai terremoti però non sta pensando ai terremoti perché non è stata ancora coinvolta in nessun terremoto però poi sfrutterà questa cosa come si destrano queste teorie le chiamo così per intenderci tra di noi e beh qua dovete aspettare che succede in terremoto e fare diciamo l'esperimento seguendo il metodo galliviano questo sarebbe una cosa e qui troviamo la seconda diciamo motivo per cui si sviluppa soprattutto in Italia il primo motivo era che in Italia erano molto ferventi gli studi di elettricità e infatti poi produrranno volt calvani volt eccetera la seconda cosa qual è? e beh perché in Italia soprattutto nel meridione è una bella terra ricca di attività sismica e quindi le opportunità non mancano nel Settecento ci sono due grandi opportunità la prima dove praticamente inizia si inizia la preistoria della sismologia non c'entra l'Italia ma il grande terremoto di rispondo del 1755 avvertito in tutta Europa perfino in Nord America in Nord Africa eccetera segno all'inizio come scrivo qua degli studi della virgoletta serie di sismologia ci si incomincia a domandare qualcosa su che cosa causano i terremoti però diciamo non è qui veramente che si incomincia a giocare perché? perché si capisce che si devono accumulare dati eccetera eccetera e però qui non succede succederà nell'evento di dopo l'evento di dopo ce l'abbiamo in casa che è il grande terremoto di Calabria del 1783 tra diciamo le vicende sta nella punta sud della Calabria a Opito la cittadina di Opito insomma tra Messina e Reggio Calabria diciamo così e questo attirerà l'attenzione di molti scienziati non solo italiani a partire dai locali giovani di Venezia che sta a Napoli ma poi verrà Lazaro Spallanzane diciamo a studiarlo per rimanere in Italia come poi Gaetern l'anno dopo Deodade Dolomiti che è francese e William Hamilton che è l'ambasciatore che sta a Napoli ed è importante questo terremoto e questo evento perché perché il regno di Napoli Ferdinando IV di Parvò appena gli arriva la notizia stabilisce pure la prima spedizione scientifica al mondo dedicata esclusivamente di scienziati dell'Accademia di Autodescenza di Napoli da mandare in loco per studiare la cosa è la prima volta di una spedizione scientifica appositamente organizzata il terremoto la prima il terremoto diciamo non è il terremoto è una lunga serie di terremoti la prima scossa forte si ha la notte del 5 febbraio come vedete magnitudo 7 insomma molto distruttiva tra il 5 e 7 febbraio continuano le scosse come vedete magnitudo 9-10 della scala Mercalli prima era 11 un bel po' di cose ma poi praticamente fino ad aprile più o meno giochiamo sempre su queste cose quindi vi immaginate il patema d'animo delle popolazioni ma poi terremoti c'è la scossa di assestamento di remoti gli aftershock durano per circa dieci anni e perciò poi vengono in Italia l'anno successivo poi chiede dolomia eccetera ma questi non finiscono più andiamone a studiare insomma il raggio dell'episodio già ve l'ho detto dove lo vedete nella cartina il raggio d'azione è pure abbastanza grande 130 km infatti si sconvolge pure Messina eccetera e quindi diciamo è cita nel regno di Napoli ovviamente il terzo regno d'Europa anche qua pieno di scienziati eccetera molti si danno diciamo da fare a studiare poi quelli che stanno sul post si compilano veramente una quantità spropositata di resoconti che diciamo all'Istituto di Anziania Geofisi e Vulcanologia c'è stato un bel sito in cui li ha raccolti tutti e su due decine e decine diciamo e se ve li andate a leggere come ho fatto io diciamo trovate che praticamente la struttura di tutti questi resoquisti non si pagano diciamo e da marzo fino all'anno successivo trovate decine e decine praticamente non si parla ma la struttura le strutture di tutti questi resoquisti sono tutte simili tra di noi ovviamente dove e quando determinazioni precise delle varie scosse gli effetti prodotti e questo magari diciamo se lo aspetta i rapporti dettagliatissimi ma poi anche tutti quanti riportano sono molto dettagliati anche di riportare le condizioni meteorologiche prima durante e dopo che uno non se lo aspetta perché lo fanno? beh adesso magari ve lo immaginate perché sta la connessione in Italia quello si pensava era dovuto all'elettricità dell'atmosfera è ovvio che si facesse un tale paragone questo per rimanere in ambito italiano ma diciamo la notizia prima a Napoli poi nel resto d'Italia con i giornali non solo scientifici ma poi sbarca pure in Europa in Europa i primi a sapere della disgrazia eccetera sono gli inglesi perché perché l'ambasciatore Hamilton che si trova a Napoli sta a casa del re sostanzialmente il re dopo qualche giorno già sa tutto perché gli arrivano i dispacci dalla Calabria che all'inizio di maggio il re Ferdinando IV gli da emistrani diceva ma esta dammi una navetta così vado lì sul posto e vado a fare studi scientifici per capirci qualche cosa il re gli da una fregata diciamo una piccola una piccola ciuma insomma e compie un viaggio sta una ventina di giorni tre settimane a fare spezione sul posto domanda cumula dati eccetera eccetera compie un diario di viaggio e questo diario di viaggio poi viene inviato con una breve introduzione sempre di Hamilton alla Royal Society quando finisce il viaggio il 23 maggio del 1783 viene inviato alla Royal Society di tutta fretta perché come dice lo stesso Hamilton perché vabbè non è che arrivava in due giorni ci voleva un po' di tempo per arrivare si vuole che venga letto prima della chiusura estiva della Royal Society per cui non si mette a scrivere un rapporto dettagliato fa un'introduzione gli manda direttamente il diario di viaggio e diciamo ci aggiunge come appendice anche un rapporto fratto da uno scienziato locale che conosce sul posto che è il ponte Francesco Ippolito che fornisce altri dettagli sulla cosa Hamilton è una persona uno scienziato diciamo serio per cui trovate anche delle cose ovviamente lui più che alle cose elettriche ovviamente pensava all'influenza dei vulcani diciamo sul terremoto c'è l'Etna a poca distanza diciamo così e non solo e trovate anche delle osservazioni scientifici accurati per esempio riportate uno che riporta che osserva che i palazzi più bassi sono quelli più danneggiati rispetto a quelli più alti diciamo alla stessa distanza dall'epicentro e questo deduce che il terremoto è qualcosa che succede sotto terra perché se state più vicino a terra succede di più invece che se state più in alto è chiaro sono cose ingenue però il conte Franceschi Polito e se Hamilton riporta pure che ci stanno ipotesi elettriche sulla natura del terremoto non prende di sa che posizione però l'eroperta il conte Franceschi poi invece essendo italiano è un poco più a favore di questo e riporta per esempio alcune osservazioni che prima del terremoto il sole riscaldato e dopo si vede delle fiamme biancassi uscire dalle fratture quindi si collega subito al fuoco elettrico beh immaginate qui qui le cose oltre a tutta una serie di altre cose partì disturbi sterici che dicevo prima l'acqua diventa prima era potabile quello disgustoso sarà di zolfo oppure viceversa quello disgustoso diventa potabile eccetera 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 e tutto questo viene osservato Dolomier che verrà l'anno dopo invece molto critico diciamo anche perché lui è un fuochista diciamo così quindi diciamo parla pure molto male degli italiani scienziati italiani Sarconi Michele Sarconi che è il segretario dell'Accademia delle Scienze di Napoli che è il capo della spedizione che vi ho detto il rapporto invece molto bene equilibrato riporta anche cose diciamo sull'ipotesi elettrica però diciamo è bilanciato senza senza fare preferenza anche se si capisce che è un italiano ed è un rapporto tecnico molto dettagliato la posizione degli elettricisti italiani in tutti i rapporti che fate invece diciamo più o meno sono tutti orientati sulla natura elettrica del terremoto a partire da Giovanni Vivenzi che è il primo trattato diciamo organico su una cosa dell'83 lo stesso anno ma poi verrà fatto un ristampe e allargamento qualche anno dopo un grosso successo le fonti principali sono il Beccarie e Cava quello che abbiamo detto prima l'ipotesi è quello che abbiamo detto e trovate appunto che c'è un giornale a tre minuti che c'è giorno per giorno le scosse gli effetti eccetera e questo per diversi mesi seguito diciamo da un giornale meteorologico perché era scontato che fosse così ma qui troviamo anche una cosa simpatica che riposta solamente giù che per lui è la prova definitiva che un fisiologo diciamo così scopre che cose che c'è stata una spranga di ferro messa lì durante il terremoto che si vede uscire delle fiammette da questa gluce c'è il parafulbino all'incontrata insomma sostanzialmente è la prova è l'elettricità la causa del terreno no il manoscritto inedito si inserisce in questa in questa filone sono 19 page manoscritto così il titolo che ho riportato non è contenuto nel manoscritto probabilmente in manoscritto ci manca qualche pagina all'inizio e allora da dove non c'è il titolo è negli archivi della Royal Society è solo scritto Earth Weeks in Calabria è lo stesso titolo generico che è dato a Demelton da dove l'ho preso questo perché evidentemente Banks faceva pure delle copie diciamo in previsione delle cose ed era stata venduta la copia del primo scritto della Royal Society questa copia scritta così è stata venduta un'asta è evidentemente invece c'era il manoscritto la copia del manoscritto però ovviamente non sappiamo a chi è stata venduta però il titolo c'era e quindi è questo qui notate che il manoscritto di voi fu mandato una decina di giorni prima di quello di Hamilton della Royal Society probabilmente viaggiavano entrambi sulla stessa nave quindi non credo che sia arrivato prima quello di Polly che è quello di Emel ma probabilmente insieme è chiaro che voi pensate è chiaro che ovviamente viene pubblicato solo uno dei due strano perché all'epoca non si facevano queste cose no nel senso che sarebbero pubblicate tranquillamente tutte e due ovviamente Hamilton era quello che è ma anche Polly era un amico personale di Banks e comunque ben introdotto la Royal Society probabilmente non c'è stata mala volontà da nessuno e probabilmente Polly non se l'è presa manco perché poi lui era un tipo abbastanza accomodante e vabbè un rapporto molto dettagliato sicuramente molto di più di quello di Hamilton e anche di quello di di Vivenzio anche se Polly non era andato sul posto ma si era avvalso dei rapporti ufficiali che venivano inviati al re e trovate non vi faccio le cose diciamo rispetto a quello di Hamilton tutta una serie si vede questo è un rapporto scientifico diciamo serio mettiamola così su quello che era successo in Calabria con varie ipotesi con ferme di vario tipo concludo ma poi mi avvalgo della mia facoltà presita assortezza vabbè leggete qui raccoglie tutta una serie una serie di osservazioni strane a supporto anche se considera anche diciamo è onnicomprensivo a differenza degli altri considera le ipotesi avverse tipicamente quella fuochista le valuta è in base ai dati sperimentali non vi citerò invece quello che è già noto la memoria sul tremuto che si riferisce al terremoto del 1805 che pure è stato devastante vi segnalo solamente che rispetto a questo manoscritto si nota una certa evoluzione del modo di presentare le cose anche di studiarle mentre prima nel manoscritto inedito si nota che c'è un ricercatore diciamo così invece nella memoria sul tremuto è più che altro un insegnante che infatti diciamo è dedicato al principe ereditare che era la sua pupilla mettiamola così ma ciò non può dire che non ci sono cose interessanti tutte a conferma diciamo dell'ipotesi elettrica c'è anche un accenno di studio della dinamica dei terremoti è lui che fa notare che è un evento progressivo misurando accuratamente questa a Napoli ma poi si avvale delle misure fatte con i pentoli insomma quindi di precisione a Roma in modo di si scopre che a Napoli il terremoto giunge quasi 5 minuti dopo e a Roma ancora un minuto più tardi qui è qualcosa che si sposta e vari altri studi diciamo si osserva un globo di fuoco più o meno in contemporanea a Napoli sulla costa di Ramalfitana e in Puglia il che significa che deve essere una cosa molto elevata nell'atmosfera se si riesce a queste distanze di chilometri eccetera 15 giorni dopo ci sarà pure l'eruzione del Vesuvio e quindi all'epoca la gente che pensò ah vedi che era il fuoco vulcanico la causa del terremoto perché se no perché sarebbe successo l'esplosione la cosa del Vesuvio invece lui farà notare nella sua teoria che invece è esattamente il contrario perché perché appunto nella sua cosa di studiare tutte le cause introducendo un altro elemento nel frattempo rispetto all'altra cosa si è scoperta anche l'aria intriammabile cioè l'idrogeno e trova un ruolo anche per questo e quindi fornisce diciamo effettivamente una teoria comprensiva di tutto non conciliante comprensiva di tutto può sembrare strana la cosa all'epoca diciamo il modello fuochista e il modello elettricista stavano esattamente sullo stesso piano godevano più o meno della stessa popolarità in Italia più l'uno che l'altro all'estero più o meno in viceversa e non è certamente preferibile nessuno di due sulla base dell'epoca perché entrambi si basavano esclusivamente su ragionamenti antirici ovviamente siamo alla preistoria e l'approccio originale di Poli così possiamo dire è che non è diciamo con i paraocchi ma considera tutta la fenomenologia appunto anche l'aria infiammabile e altre cose che non ho detto il limite è che semplicemente puro empirismo è chiaro così ma non pensiate che diciamo non ha avuto un seguito almeno in Italia alla fine dell'ottocento ovviamente la cosa muore l'ipose elettrico muore all'inizio dell'ottocento ma c'ha un seguito alla fine dell'ottocento ci sarà Mario Barat che un sismologo a quel punto che fa un catalogo di effetti elettrici e magnetici anche nel frattempo che diciamo in questa tradizione e in effetti poi gli studi sulle connessioni proseguono pure oggi ovviamente non in questo anno è vero così perché muore l'ultima cosa l'ipotesi elettrica perché c'è il cambio di paradigma all'inizio dell'ottocento mentre nel 700 domina la bottiglia di Leta c'è elettricità statica poi c'è la pila di vostra e queste cose diciamo si inseriscono bene nel primo filone ma non nel secondo e quindi sostanzialmente poi cambia rispettiva scusatemi per grazie era un divertissimo no no quello è della fine dell'ottocento quindi diciamo la storia poi diciamo le cose serie veramente è della metà del novecento diciamo così chiamola così però i primi studi la storia inizia alla fine dell'ottocento i studi diciamo quello che sappiamo adesso è metà novecento sostanzialmente le connessioni dell'elettricità e del magnetismo si studiano ancora adesso insomma non sulle cause del terremoto c'è certo è chiaro non sulle cause del terremoto però insomma la storia si 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 certamente ma non è stata l'unica diciamo le auricodoreali non si osservano frequentemente a latitudini troppo basse ma non adesso magari va bene per tanti motivi ma all'epoca non è mica l'unica volta che era stata osservata diciamo si osservavano in galatitudine in ferie quindi si 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 è molto più raro però insomma bene allora grazie ancora all'epoca Grazie a tutti.